Una ricetta facile, allegra e spiziosissima, alberelli di Natale con crema di rucola, senza cottura. Per prima cosa tagliamo delle fettine di pane e tostiamole in padella. Ci servirà un quantitativo minimo di radicchio, che non è necessario, però per colorare la ricetta ci sta bene. Tagliamola a julienne dopo averlo lavato. In un mixer lavoriamo la rucola con un filino di olio e il formaggio sfarmabile e mettiamo il tutto all'interno di una sac à poche. Formiamo la base del nostro alberello, mettendo un pochino di crema sul crustino. Decoriamo con il radicchio granella di pistacchio e cominciamo a sviluppare il nostro alberello in altezza. Come vedrete terminerò con la classica punta come se fosse un alberello di Natale. Decoriamo ancora e potete aggiungere anche dei chicchi di mais e dei chicchi di melograno per renderla ancora più allegra e spiziosa. E non mi resta che dirvi buone feste!